Buon pomeriggio a tutte e a tutti e tanto vi confesso che sono un pochettino emozionata nell'iniziare questo incontro di oggi, parliamo di un tema che è particolarmente toccante io credo per ciascuno di noi il tema del rimpianto, del rimorso, del senso di colpa quindi intanto io vi ringrazio per essere qui oggi perché è un tema che comunque non è semplice da affrontare, non è semplice da toccare e vi ringrazio anche perché spero che sia una bella occasione questa per poter confrontarci noi cercheremo di diciamo stare, proporvi degli interventi brevi, delle letture brevi che pian piano vi diremo di cosa si trattano e poi ci piacerebbe poter aprire un confronto un dialogo con voi e delle domande, dei pensieri che possano circolare in questo momento di incontro allora io sono Cristina Vargas, mi ha già presentata Armando Buonaiuto quindi non mi soffermo direi che possiamo cominciare proprio subito con una poesia che ci leggerà Antonella Delligatti ho commesso il peggiore dei peccati che un uomo possa commettere non sono stato felice che i ghiacciai dell'oblio possano travolgermi e disperdermi senza pietà i miei mi generarono per il gioco rischioso e stupendo della vita per la terra, l'acqua, l'aria, il fuoco li frodai non fui felice realizzata non fu la giovane loro volontà la mia mente si applicò alle simmetriche ostinatezze dell'arte che intreccia in ezie ereditai valore e non fui valoroso non mi abbandona mi sta sempre a lato l'ombra di essere stato un disgraziato qui alcune testimonianze caro papà avremmo dovuto essere tutti con te in questo momento tu ci avresti voluto con te hai sempre avuto paura della solitudine noi non siamo stati in grado di comprendere profondamente questa paura e noi che non siamo stati sempre all'altezza delle tue aspettative oggi che vorremmo essere con te non possiamo farlo siamo costretti a starti lontano cara mamma avrei voluto esserci stringerti la mano, confortarti e dirti ti voglio bene questo è il mio rammarico caro papà siamo stati lontano da te un mese con la rabbia di non poterti stare vicino di non poterti confortare chissà cosa hai pensato non vedendoci ti sarei sentito abbandonato sei andato via ed è arrivato il vuoto un vuoto che cerchiamo di colmare pensando all'amore che ci hai dato ai ricordi che ci hai lasciato anche se non ti vediamo sappiamo che ci sei che sei vicino e ci proteggi allora io ringrazio Antonella per questo stimolo che ci introduce subito nella genesi di questo momento di incontro e di confronto e nell'autunno del 2020 insieme alla fondazione Fabretti insieme alla società per la cremazione di Torino organizzò un momento di commemorazione che era pensato sostanzialmente per riempire un vuoto un vuoto profondo che aveva lasciato il periodo del covid che aveva privato moltissime famiglie dalla possibilità di stare vicino ai loro cari di accompagnarli nell'ospedale durante il tempo dei ricoveri che aveva privato molte famiglie dalla possibilità di un funerale vero e proprio lasciando davvero una mi viene da dire un nodo di irrisolti cioè una quantità di cose non dette non espresse che non era stato possibile in nessun modo simbolizzare ritualizzare e pronunciare allora sapendo che questo non compensa appieno ma che comunque è una via abbiamo immaginato un momento rituale di commemorazione cioè un momento in cui fosse possibile quantomeno anche a distanza di tempo se vogliamo colmare un pochettino quella lacuna quel vuoto che aveva lasciato il periodo del covid e quel momento di incontro che abbiamo intitolato le parole che non ti ho detto aveva come cioè fra le cose che venivano proposte oltre alla lettura dei nomi una passeggiata nel giardino della memoria uno spazio una teca in cui le persone potevano lasciare delle testimonianze delle parole che avrebbero voluto dire parole che non erano state pronunciate quelle che avete sentito sono alcune delle testimonianze lasciate da queste persone quindi sono parole reali non sono sono parole autobiografiche parole che le persone hanno deposto in quella teca per consegnarle in qualche modo alla memoria dei loro cari quindi rileggendo il primo impatto di quelle testimonianze per noi ci ha fatto pensare a molti temi ci ha fatto pensare all'elaborazione di lutto ci ha fatto pensare all'importanza della ritualità rileggendoli a distanza di tempo abbiamo contattato anche questo grande tema che ci vede riuniti qui oggi cioè il tema del rimpianto e del riborso e lì arriva la seconda lettura che cronologicamente in realtà abbiamo ascoltato per prima che è la poesia di non so se qualcuno l'ha riconosciuta qualcuno si vedo che qualcuno la conosceva già è una poesia di Jorge Luis Borges un autore a me molto caro intanto perché arriva dal dal mio continente lui è argentino io colombiano arriviamo entrambi dall'America del sud ed è una poesia che si intitola proprio Il rimorso questa è una poesia particolare perché è una poesia che è stata scritta senza essere esplicitamente collegata alla morte della mamma è una poesia che è stata scritta da Borges poco tempo dopo la morte della mamma anziana quindi non è un cioè come dire è una poesia che ha un po' il sapore anche di un bilancio di vita di un pensiero rispetto a quello che poteva essere una traiettoria che in realtà è stata una traiettoria straordinariamente ricca straordinariamente creativa costruttiva produttiva e che in realtà però lascia questo sapore di di un mancato traguardo di un qualcosa che non sono stato e leggendo questa poesia pensando all'incontro di oggi ho realizzato una cosa estremamente interessante cioè mi si è aperto come come la finestra mentale perché ho detto ecco c'è una differenza lessicale fra rimpianto e rimorso partiamo proprio da qui e il rimpianto nella lingua italiana nell'etimologia è collegato a quell'emozione quella tristezza quella nostalgia se vogliamo quel rammarico che si prova per qualcosa che non ho fatto rimpiango il non aver fatto mentre il rimorso anche in senso etimologico è molto più collegato alla colpa che toglie la coscienza che rimorde non a caso Ernesto De Martino associa la parola rimorso al tema del morso del ragno nel tarantismo salentino nel tarantismo pugliese e a tutte le implicazioni che questa diciamo che questa trasizione ormai molto trasformata ormai non più presente ma per come era negli anni in cui compì le sue ricerche si manifestava cioè quel senso quasi fisico di dolore pungente di dolore interno all'anima che rappresenta il senso di colpa per un'azione compiuta allora rimpianto e rimorso a me ascoltando quella poesia mi veniva in mente che è più un rimpianto che un rimorso allora ho detto ma perché la chiamate il rimorso e ho realizzato una cosa interessante lo spagnolo non ha questa differenza lessicale noi abbiamo una sola parola che è remordimento che si trasluce esattamente rimorso non abbiamo una parola che esprime il rimpianto questa è una di quelle cose che in antropologia ci aprono orizzonti e ci dicono non in tutte le lingue abbiamo parole per definire tutte le emozioni quindi ho cercato come viene trasotta la parola rimpianto quando la si trova in italiano come viene trasotta allora ho trovato arrepentimento che però è pentimento non è non è proprio il rimpianto è un po' diverso viene trasotta nostalgia che però di nuovo non è esattamente la stessa cosa quindi nel ragionare su questa poesia mi sono resa conto ho realizzato quanto importante è la ricchezza lessicale che la lingua italiana ci propone per parlare di quell'orizzonte di emozioni che stanno all'interno del registro semantico della colpa o più precisamente del senso di colpa quindi io in questa introduzione che proverò come dire a non dilungarmi troppo per dare la parola agli altri ospiti volevo soffermarmi proprio su un pensiero su questo registro emotivo sul registro emotivo del senso di colpa sull'ambito delle emozioni che copre sia il dolore per ciò che non abbiamo fatto sia proprio quell'altra forma di dolore quel rimorso per azioni compiute ecco sempre qua cercando un po' di letteratura un po' di riflessione intorno a questo tema del senso di colpa mi sono imbattuta in un lavoro molto interessante un po' dimenticato devo dire di un filosofo che è Martin Buber un filosofo che non che non è conosciutissimo cioè molto conosciuto diciamo in alcuni ambienti però non è conosciutissimo a livello diciamo così di di presenza nelle riflessioni quotidianamente lui è il filosofo che si occupa di tutto il tema dell'intersoggettività e l'incontro cioè lui ha parlato moltissimo di questo spazio tra lo spazio che c'è tra le persone e Buber dedica un suo lavoro al senso di colpa che io ho trovato particolarmente interessante perché lui reagiva in questo suo scritto ha una certa tendenza a pensare che il senso di colpa sia qualcosa di cui ci dobbiamo in assoluto liberare ah bello piacerebbe a tutti liberarci dai sensi di colpa c'erano anche le vignette e penso a questi fumettisti argentini c'era una molto simpatica con due persone che chiacchieravano in un ristorante uno diceva all'altro ma come sei da tre anni in analisi in terapia e non ti sei ancora liberato dal senso di colpa non va tanto bene ecco perché si era diffusa un po' l'idea soprattutto in certi ambienti che la colpa fosse qualcosa di esclusivamente negativo qualcosa come una costrizione qualcosa di legato alle convenzioni sociali qualcosa di cui comunque non potevamo fare altro che liberarci per poter vivere una vita psichicamente più sana Martin Buber reagisce a questa cosa e dice no il senso di colpa è una delle emozioni che stanno nello spazio tra perché è una delle emozioni che connette agli altri non proviamo senso di colpa se non proviamo una connessione un senso di responsabilità un senso di vicinanza e di incontro rispetto ad altri che per noi sono significativi quindi in un certo senso è la contropartita dell'amore il senso di colpa e il forse un po' il prezzo che paghiamo per i legami ed è anche e questo è particolarmente interessante perché ritorna anche nell'antropologia in tutte le sue manifestazioni il senso di colpa è anche un'emozione fortemente sociale cioè un'emozione che ancora il nostro agire individuale a norme pensieri rappresentazioni che sono considerate moralmente appropriate nel nostro contesto quindi in qualche modo ci connette alla sfera sociale e questo lo ripesco dall'antropologia l'antropologia per me è importantissima e Claude Lévi-Strauss nel suo molto celebre libro Tristi Tropici a un certo punto dice la citazione precisa non la ricordo però a un certo punto dice l'Occisente è attanagliato da sensi di colpa tali da aver generato moltissimi antropologi quindi in qualche modo l'antropologia per Lévi-Strauss è figlia un po' di una colpa sociale di una colpa atavica che in qualche modo viene riparata perché ecco perché è importante anche per Buberi il senso di colpa perché il senso di colpa è quello che spinge la riparazione la riconnessione la ricerca di qualcosa che in qualche modo ci porta al superamento dell'errore o alla riconquista di quello che non abbiamo fatto è una spinta in qualche modo necessaria e generativa non necessariamente distruttiva come contro non è però l'unico aspetto ecco mi viene da dire perché capita anche invece che esiste questo aspetto del senso di colpa ma capita anche che il senso di colpa possa essere rimpianti e rimorsi possano essere scollegati da una dimensione oggettiva di colpa e ci carichiamo di rimpianti di rimorsi che non sono legati a colpe reali ma che sono legati per esempio al peso di aspettative sociali al peso di aspettative degli altri che sono proprio quei sensi di colpa che un po' bloccano quelli di cui veramente ci si potrebbe liberare senza remore quelli che davvero la terapia dovrebbe in qualche modo aiutare a identificare e a superare e nel lutto perché mi ricollego allora così arrivando verso la fine nel lutto questi sensi di colpa li troviamo in maniera molto presente molto frequente rimpianti e rimorsi arrivano come emozioni molto presenti nell'esperienza luttuosa arrivano non sempre anzi spesso non collegate a colpe reali ma in qualche modo sono una risposta alla finalità della morte cioè al fatto che la morte ci priva almeno apparentemente da ogni possibilità di riparazione quindi succede per esempio che una discussione che magari poteva apparire banale in un momento qualsiasi avviene però poco prima della morte diventa invece un macigno succede io penso a situazioni che ho incontrato mille volte nei gruppi di supporto al lutto in altri contesti per esempio che una mamma che perde un figlio magari in un incidente o per suicidio tornano a galla tutte quelle volte in cui anche molti anni prima una frase tipo veramente non vorrei vederti mai più oppure non ti far più vedere quelle cose che si dicono da arrabbiati tornano pesanti come macigni e ci caricano appunto di questi sensi di colpa tornano anche i rimpianti tutte le domande i dubbi che costellano il lutto avrei potuto fare di più avrei potuto essere più presente sarò stata sarò stato un buon marito una buona moglie un buon padre una buona madre un buon figlio e penso di nuovo a Borges il figlio che i miei genitori avrebbero voluto oppure ho tradito le loro aspettative e allora mi arriva il senso di colpa io credo ecco che ripesco ancora un pensiero di Buber lui dice ecco siamo capaci di sperimentare la colpa e questo è importante ma siamo anche capaci e questo forse richiese un pochino di sforzo in più di rendere conscia quella colpa cioè di capirne le motivazioni di capirne le ragioni di collocarla all'interno di quella che può essere la realtà delle relazioni di rileggerla alla luce di un pensiero che ci connette agli altri e di trasformarla non in qualcosa che ci blocca che ci fa rimanere ancorati alla colpa ma che ci apre la possibilità di trovare un'espressione e una forma di riparazione io credo che con questo pensiero per me la scrittura la scrittura narrativa la scrittura autobiografica penso a Marina Sozzi che ha curato dei bellissimi laboratori di scrittura autobiografica qua in questo contesto di Torino spiritualità sia per esempio una delle vie che consente che consente quella riscrittura quella trasformazione del senso di colpa da qualcosa che ci paralizza che ci congela che ci lascia ancorati a una dimensione di sofferenza in qualcosa che invece è generativo è una spinta vitale è una spinta che ci connette alla vita e quindi in questo senso ecco io credo che anche il rito e qua mi connego comincio anche un po' a lanciare il filo conduttore che ci unisce all'intervento che poi farà Marco Aime anche il rito in un modo simbolicamente per trovare spazi di riparazione di riconnessione di in qualche modo ricomposizione di quella che possono essere momenti che sentiamo come mancanza quindi direi che direi che questa era un po' la la riflessione con cui volevo iniziare oggi l'idea che il senso di colpa possa in qualche modo sciogliersi alleggerirsi grazie innanzitutto a questa consapevolezza qua che esistono vie per la riparazione e poi grazie alla nostra capacità di vederci per ciò che siamo e qua cito il titolo di Torino spiritualità legni storti persone che non possono avere tutto sotto controllo quindi l'accettazione del limite rappresenta una delle vie proprio perché la colpa possa in qualche modo trasformarsi in qualcos'altro in cui possa essere colta la bellezza nell'imperfezione la bellezza la meraviglia l'abbiamo chiamata in un laboratorio che abbiamo fatto qualche giorno fa in ciò che è imperfetto in ciò che in qualche modo non va esattamente come lo desideriamo ma sappiamo che tutto non può essere non può essere come dire messo sotto controllo allora io mi fermo qui e direi che non so se facciamo facciamo ancora un pezzettino di lettura grazie per la vostra attenzione non ti ho mai detto sei stata una brava mamma hai affrontato mille difficoltà e le hai superate egregiamente non so se io sarò capace non so se sarò all'altezza dei tuoi insegnamenti ma cercherò di fare riferimento a quello che mi hai trasmesso mi manchi tantissimo mi sento persa troppo presto troppo di corsa troppo doloroso cara moglie ti chiedo perdono per non aver capito quanto stessi male mi sto impegnando a rimettere a posto le cose con nostra figlia e a risolvere i dispiaceri che altri hanno causato lei è in buone mani io seguirò i suoi passi la proteggerò per tutta la vita anche se è una testona sarò sempre vigile riposa in pace a volte a volte vorrei poterti rivedere anche solo per cinque minuti cinque minuti non sarebbero sufficienti ma se li avessi me li farei bastare ti direi che mi manchi che ci manchi anche se si sorride molto meno ti dirò che io sto bene che nonostante tutto me la cavo ce la caviamo anche se non è facile andare avanti senza di te poteva accadere doveva accadere è accaduto prima dopo più vicino più lontano è accaduto non a te ti sei salvato perché eri il primo ti sei salvato perché eri l'ultimo perché da solo perché la gente perché a sinistra perché a destra perché la pioggia perché un'ombra perché splendeva il sole per fortuna là c'era un bosco per fortuna non c'erano alberi per fortuna una rotaia un gancio una trave un freno un telaio una curva un millimetro un secondo per fortuna sull'acqua galleggiava un rasoio in seguito a poiché eppure malgrado che sarebbe accaduto se una mano una gamba a un passo a un pelo da una coincidenza dunque ci sei dritto dall'animo ancora socchiuso la rete aveva solo un buco e tu proprio da lì non c'è fine al mio stupore al mio tacerlo ascolta come mi batte forte il tuo cuore bene allora darei la parola a Marco Aime antropologo e a te Marco grazie buongiorno a tutti grazie per essere qui allora confesso che quando mi hanno invitato a partecipare a questo incontro avevo dei dubbi e delle perplessità su cosa avrei potuto dire poi adesso anche ascoltando le letture di Antonella invece ritrovo molti agganci posso solo raccontare un po' un'esperienza personale che ho vissuto verso metà del 2022 cioè proprio dopo quando stavamo un po' uscendo dal periodo più critico della pandemia e mi telefono a un vecchio compagno di scuola che poi è diventato medico e lavorava al Mauriziano insomma ci vediamo per chiacchierare su un tema che non solo medici ma anche infermieri operatori dell'ospedale su cui avevano già cominciato a discutere e a riflettere cioè durante il periodo del lockdown allora solo al Mauriziano sono morte oltre 300 persone per il covid e tutte senza aver avuto più contatto con i familiari perché non era possibile visitare e soprattutto devo dire gli infermieri e gli infermieri forse perché erano quelli che hanno avuto più il contatto diretto erano quelli che più avevano sentito questa mancanza questo vuoto proprio di cui parlavi tu prima e c'era un qualcosa di risolto bisognava in qualche modo cercare di elaborare ma anche di provare a dare una cornice a tutto questo no? Cioè ci si è quasi resi conto di come quel gesti quasi di routine abitudinare spesso anche andiamo ai funerali degli altri volte senza elaborare troppo questa cosa diventi l'importante nel momento in cui ci sono venuti a mancare in quel momento lì è mancato qualcosa e allora cosa fare questo amico un po' quasi tu che sei un antropologo e allora abbiamo così discutendo tutti assieme è venuto l'idea che bisogna in qualche modo elaborare una qualche forma di rituale perché ne hai già accennato tu Cristiano il rituale di per sé in antropologia è stato studiato a lungo soprattutto penso a Victor Turner che forse è un antropologo che più di tutti ha riflettuto su questo tema qual è l'importanza del rituale non sta tanto sui dettagli o nel significato sta ma nel fatto che una comunità un gruppo qualunque se sia da una comunità familiare a quella più grande si vede e si conta si ha la percezione fisica di far parte di un gruppo i rituali tutti da quelli religiosi quelli politici o di qualunque altro genere sportivo se vogliamo sono in fondo che cosa una comunità che si mette in scena si mette in scena proprio sul palco va sul teatro si deve vedere deve recitare quella parte lì perché solo così abbiamo la percezione di appartenere a un gruppo ecco anche i funerali sono il vedersi il contarsi il capire sono anche un modo per elaborare una fine e pensare a ricominciare al fatto che la vita continua ecco questo è avvenuto a mancare e ci si è accorto da questo di di quanto fosse stato difficile cosa fare beh non è facile elaborare un rituale così dal nulla in genere insomma si pensa sempre allora mi era venuto un po' in mente una cosa ripescando da esempi studiati o vissuti sul campo ricerca per esempio in Africa c'è una tradizione quando si si cita si parla di una persona defunto o di appena defunto quando si sta bevendo prima di bere si versa per terra agli antenati la bevanda prima di berla noi come voi ecco ecco vedi qualcosa che va oltre ecco quindi gli antenati stanno nella terra diamo a bere la terra diamo a bere agli antenati e quasi brindiamo con loro è un segno di rispetto allora cercando di elaborare poi non è che si può prendere una cosa e di colpimentare abbiamo pensato anche che cosa però dà la speranza che cosa ed è un albero e in particolare tra gli alberi è venuto l'ulivo no e in particolare si pensa anche perché ha avuto in mente il famoso versi finale di quella poesia bellissima di Nazimi Kme o età turco la vita è bella quando dice è così la vita è così forte che quando sarai adesso non ricordo i versi di memoria starai per morire e pianterai un ulivo sperando ancora di vederlo a fiorire sapendo che l'ulivo ha dei tempi lunghissimi quindi è un inno alla vita e al continuare e allora la prima cosa è stata quella di cercare di invitare tutti i parenti delle persone che erano mancate in questo periodo e in un giardino dell'ospedale mauriziano il rituale una parte rituale era quello di versare acqua sulle radici di questo olivo che aveva un po' un senso ma anche la cosa che è stata particolarmente poi toccata è stato quello di chiedere e questo ho ritrovato in quello che leggeva Antonella allora chiedere ai parenti delle testimonianze una lettera che cos'è appunto cos'è mancato ovviamente sono uscite anche nelle forme più strane ma allo stesso tempo mettere a confronto invece chi è stato vicino a queste persone fino alla fine cioè gli infermieri medici e questi soprattutto infermieri infermieri noi siamo stati le madri le mogli le sorelle i padri i cugini di queste persone che le hai tenute per mano perché non c'era nessun altro e quindi mettendo a confronto queste testimonianze lette ovviamente da sono anche accompagnate è come se si fosse stabilito un dialogo ideale tra chi non ha potuto esserci e chi c'era invece di anche se non aveva non era nel posto giusto non era il ruolo giusto l'infermiera deve curarti non accompagnarti a morire però e soprattutto non farlo come ed è stato davvero toccante la cerimonia perché hanno presenziato praticamente quasi tutti quindi c'erano più di 500 persone quindi piantato questo olivo in questo giardino sentite queste letture sono state anche letture di poesie però letture le testimonianze e poi ecco ciascuno della famiglia che passava e versava acqua su radici adesso è già il terzo anno che questo rito si ripete a luglio continuo avanti e quello è stato quel giardino dell'ospedale è stato un po' chiamato il giardino del ricordo così c'è anche una targa a ricordare questo periodo ma soprattutto questo momento allora ecco legandomi un po' a quanto diceva Cristina all'inizio ecco quello che è emerso soprattutto è da un lato appunto questa necessità di di una presenza fisica il rituale appunto dell'esserci non basta esserci in spirito non basta abbiamo bisogno davvero di questo senso di vicinanza fisica che ci porta a essere a vederci a contarci davvero e dall'altro punto quest'idea del fatto che comunque è vero la vita continua per cui non ci si può fermare allora ecco che è anche un segno mi dirà bene qui non finisce finisce qualcosa ma inizia no e pensando e poi riflettendo ecco quanti sono le modalità lo sappiamo benissimo nelle varie sud del mondo per elaborare anche in forme diverse per esempio in molti paesi del nord d'Europa anche paesi balcani al nord il funerale consiste in un banchetto funebre in cui a turno i partecipanti si alzano e raccontano un episodio bello vissuto con la persona che è venuta a mancare dopodiché si brinda tutti assieme queste cose quindi ecco è un modo come dire è un ricordo ma allo stesso tempo lo teniamo vivo la persona continua a vivere dentro di noi ecco e questo ci fa anche pensare un po' allargando il discorso che tra le tante definizioni che si danno dell'essere umano per distinguere dagli altri animali ecco una delle poche che tiene perché poi le altre in genere dopo un po' si scopre che lo fanno anche altri ma per adesso è che forse siamo l'unica specie che non abbandona i propri defunti in qualche modo noi accompagniamo modi diversi dal mummificare per rendere perenne nel tempo al seppellire o al bruciare siamo al caso dell'induismo in cui il corpo è meno importante perché è il karma che torna ma in ogni caso ecco non lasciamo così a meno tranne nei periodi tragici in cui siamo costretti non è casuale che per esempio ci fanno in ora ridire quando si scoprano le fosse comuni perché è come se venisse tolta ogni identità ogni personalità l'individuo venisse spersonalizzato ridotto a cosa a oggetto ecco quindi l'importanza di questi rituali non solo quelli funimi ma in questo caso stiamo parlando di questo sta proprio nella doppia secondo me percezione da un lato rinnovare la memoria ma allo stesso tempo dare un senso di comunità che continua ad andare avanti nel tempo bene grazie Marco per questa intanto per questa bella testimonianza rispetto al rito che è stato organizzato al Mauriziano e si è data molta visibilità non so se qualcuno dei presenti ha avuto occasione di partecipare di essere presente o se l'avete visto da qualche parte nei giornali perché se ne è parlato molto è stato uno dei primi riti in Italia che sono stati organizzati nei contesti ospedalieri quasi a ricordarci l'importanza io ci tengo molto a questo di un'attenzione alla cura della dimensione umana spirituale psicologica anche nei contesti ospedalieri nei contesti di cura dove non ci si può limitare come dire occuparsi del corpo ma ci si deve occupare anche di molto altro e quindi credo che sia molto molto importante anche questo questo bel elemento mi ha fatto riflettere il buttare l'acqua è una tradizione che abbiamo anche noi e come in ogni in ogni contesto in ogni cultura ci siano proprio forme rituali per accompagnare i defunti per rielaborare la presenza della comunità asserirla affermarla rispetto alla perdita e come questo sia importante anche non solo su un piano sociale ma anche su un piano individuale allora io darei la parola alla professoressa Chiara Saraceno sociologa e per così per chiusere un po' questa prima parte e poi aprire al pubblico in realtà mentre stavo ascoltando queste esperienze mi è venuto in mente che c'è un bellissimo libro di Marzio Barbagli che è un sociologo proprio sulla storia del come si muore storia occidentale soltanto e che è molto variata molto variata è vero c'è sempre c'è questo bisogno di rituale ma oggi la maggioranza della gente anche in Italia muore in ospedale mentre un tempo si moriva in casa si nasce in ospedale si nasce anche in ospedale si muore in ospedale quindi vi suggerisco di andare a vedere questo libro molto bello uscito qualche anno fa molto interessante un'altra cosa che anche per come dire non rassenerare perché siamo tutti molto sereni ma guardare l'altro aspetto è che adesso si nasce anche in ospedale anche il covid è stata anche una rottura anche rispetto alla nascita perché cioè in un contesto in cui lentamente nel corso della mia vita da adulta si è passati dall'idea che una madre doveva partorire da sola con la ginecologa le ostetriche guai se c'era qualcuno adesso invece è diventato quasi prescrittivo il fatto che ci sia il marito o il compagno non la madre un'amica che uno potrebbe volere qualche di un altro ma deve esserci il marito questo è diventato il modello prescrittivo che era assolutamente vietato quando io ho partorito per esempio assolutamente vietato e però invece durante il covid mi è capitato una volta avevo avuto mi ero rotto un braccio quindi ero all'ospedale a Mauriziano giusto appunto e vedevo entrare queste povere donne da sole con il marito lasciato dietro lei non può entrare e pensavo che loro dovevano e anche per loro a Torino si è poi pensato a un recupero di questa solitudine non solo del parto ma di tutto l'ambarananzo dopo non c'è anche le visite che è pure un rituale anche se meno formalizzato che non un funerale quindi i rituali chiedono all'inizio alla fine e anche durante la vita va bene però questo era per dire per agganciarmi a questi esempi che io non ho questi sono così belli da portare volevo un po' tornare alla distinzione se posso tra rammarico e rimorso che non sono proprio la stessa cosa non sono proprio tipo lei ha detto nella poesia di Bosch chissà perché si chiama rimorso è solo perché manca manca nella vostra lingua no perché se io l'ho letta come un rimorso una poesia di rimorso cioè il rimorso non il rammarico di non aver fatto il rimorso ha a che fare con le aspettative degli altri non solo di sé gli altri cioè ho fatto qualche cosa che in qualche momento ha prodotto un dolore non sono stato quello che i miei genitori avrebbero voluto quindi infatti secondo me lui non si rammaricava di non essere stato felice c'era talmente come dire si rammaricava del fatto che non aveva esaudito le aspettative il desiderio e in questo sentiva un rimorso cioè e però qui ci rimane andiamo alla colpa sono d'accordo che la colpa non è sempre negativa e però non sono così sicura innanzitutto che il rimorso e il senso di colpa connesso al rimorso abbia sempre a che fare con l'amore ha più spesso a che fare con un senso di responsabilità cioè io mi sento in colpa perché avrei dovuto o avrei potuto se non dovuto potuto fare qualche cosa ma non necessariamente per amore cioè è un senso di responsabilità il rimorso si può fare anche rispetto alla collettività il rimorso per non aver fatto delle azioni o per aver fatto delle azioni negative e così via a parte il rimorso più apparentemente incomprensibile più tragico è quello di Primo Levi nei sommersi ai Sarrati che colpa ha quello dell'essere sopravvissuto no ma del chiedersi perché io e perché non loro no lì non c'è la colpa ma quasi c'è il dubbio che ci sia qualche cosa di sbagliato in me perché sono sopravvissuto quando quindi dobbiamo non c'entra solo l'amore ecco c'entra un senso forse di adeguatezza rispetto e anche di responsabilità però qui arriva anche oltre all'aspetto positivo anche l'aspetto non so se dire negativo ma certamente fortemente socialmente costruito la famiglia è un luogo ideale per l'esplosione dei rimorsi e dei sensi di colpa è proprio no è giusto questo però è giusto avere delle relazioni basate sul sul senso di colpa che poi è anche il pandan del sacrificio no una un c'è una nelle indagini che vengono fatte sui modelli di genere ma anche su servizi per l'infanzia eccetera c'è una domanda c'è una una domanda c'è un una formulazione che viene posta sempre soltanto alle madri ma ai padri il bambino soffre se la mamma perché la mamma lavora e uno deve dire se è d'accordo o non d'accordo eccetera non viene mai formulata al maschile il bambino soffre perché il papà lavora si suggerisce che ci possa essere intanto che c'è una responsabilità diversa ma anche il senso di colpa no e non a caso il senso di colpa è l'ombra delle madri no che lavorino o non lavorino è l'ombra della madre che sbaglia sempre qualche cosa per forza ma non solo perché è un legno storto perché è un legno finito prima che storto siamo finiti grazie a dio non siamo onnipotenti tra la stortura e la non onnipotenza c'è una differenza storto vuol dire che siamo imperfetti siamo sicuramente imperfetti ma prima che imperfetti siamo finiti siamo parziali non siamo onnipotenti per fortuna per fortuna e quindi come dire dietro a volte al senso di colpa c'è l'immagine di una possibile potenziale auspicabile onnipotenza e questo non è solo l'amore se vogliamo è addirittura il contrario cioè come dire perché io potrei fare tutto che poi è il pandan del figlio che dice sono in colpa perché non ho corrisposto a ciò che era stato immaginato per me no? Venta delinquente capisco che abbia un po' di sensi di colpa ma se uno invece di diventare architetto diventa cantante o un'altra cosa cioè comunque fa la sua strada no? fa la sua strada il senso di colpa può essere provocato da mandati impossibili da realizzare non solo da responsabilità che non si sono assunte ma anche da mandati impossibili da realizzare e quindi ritorno alla mia cosa c'è questo senso della responsabilità che è importantissimo perché nei rapporti interpersonali è fondamentale avere il senso della responsabilità però qualche volta può come dire andare oltre e anche poi diventare pesante per chi è oggetto della nostra responsabilità ma soprattutto funziona anche a prescindere dall'amore che può anche essere positivo però è importante questo alcuni anni fa se le facessimo adesso sarebbe probabilmente uguale delle ricerche fatte in un paese molto meno familistico del nostro che l'Inghilterra dove anzi sono molto più individualizzati anche possono persino sembrare egoisti qualche volta hanno fatto una ricerca sulla disponibilità all'accudimento da parte delle figlie naturalmente delle figlie nei confronti dei genitori diventati fragili ed emergeva come questo senso di dovere fosse fortissimo a prescindere dal fatto che tra quella madre e quella figlia ci fosse stato un buon rapporto erano persino casi di figlie persone che si erano allontanate nella vita e che però quando è scattato il bisogno è scattato il senso del dovere della responsabilità non so se questo sia buono o cattivo ma lo ponevo come come dimensione importante che direi è il senso della responsabilità ma anche così com'è socialmente costruita il dovere in quanto figlia rispetto a prenderti cura della tua mamma o del tuo papà se hai bisogno anche se a prescindere poi uno si può chiedere come siano i rapporti dell'accodimento magari uno li supera supera anche non si sa però ciò che fa scattare è se si vuole un ruolo ma un ruolo che è fortemente interiorizzato non è semplicemente una prescrizione che viene dal di fuori e dice adesso tu vai e ti occupi della tua mamma è diventato parte anche dell'identità e del modo interno quindi non so ho fatto un discorso un po' confuso ma di dire allora il rammarico non è necessariamente rimorso anche il rammarico per esempio nelle testimonianze che abbiamo sentito c'è molto c'è molto rammarico non necessariamente non ti ho parlato c'è il rammarico di non essere stati lì di non aver potuto stare lì che non è il rimorso è sbagliato secondo me interpretarlo come rimorso poi nell'esprimere questo rammarico potrebbe possono venire fuori anche dimensioni di rimorso per altre cose per il passato per altre cose ma non ma quello che anche i vostri rituali hanno hanno tentato di far elaborare e di raccogliere era il rammarico per un passaggio che non era avvenuto non il rimorso per qualcosa che si era fatto di sbagliato o per ego il conto è uno che non vuole che la madre sta morendo e non va perché ha altro da fare ma è un conto è uno che non ci ha potuto andare oppure non ha fatto in tempo eccetera tutti noi abbiamo rammarici per persone che magari sono andate morte non solo per il covid ma che era un po' di tempo che non vedevamo no? e pensavamo sempre di poterle vedere perché c'è rimorso per cui io terrei distinto il rammarico per autorizzare un rammarico a parte che la definizione del vocabolario di rammarico è bruttissima dice il rammarico ha a che fare con la nostalgia e con una fissazione con un passato un po' perso no? che non fa andare avanti no? il rammarico è semplicemente di nuovo la presa ha dato della finitezza di ciò che uno potrebbe dire eh se avessi fatto quella cosa lì però in generale il rammarico è avrei potuto prendere quella via fare quella cosa lì mi ho preso un'altra chissà come sarebbe stato se io volevo far l'attrice ecco voglio dire mi spiace un po' non averci provato però non è che sono fissata su questa cosa qui e tutta la mia vita è fissata su questo rammarico bene grazie grazie intanto perché cominciamo a tenere tante parole no? un po' nel vocabolario che si sta costruendo in questo incontro il rammarico e il rimpianto il rimorso cominciamo anche a vedere le molteplici sfaccettature le molteplici sfaccettature che queste parole possono assumere quanto ci aiutano come dire a mappare questo campo questo ambito complesso articolato ricco e dove ci sono come dire c'è quell'aspetto che ha evidenziato molto bene la professoressa Saraceno della responsabilità ma c'è anche e che emergeva molto bene io ho preso della trappola no? quanto ci intrappolano quanto il senso di colpa può costituire una diciamo così una forma interiorizzata delle pressioni sociali pressioni che hanno risvolti di genere come non riconoscerle e quindi ecco vediamo come la colpa sia davvero un ambito vasto complesso difficilmente risucibile no? a poche formule e come abbia anche una profondità esistenziale talvolta faticosa da comprendere ma molto umana come quella che si esprime per esempio nella colpa dei sopravvissuti no? la colpa grande dei sopravvissuti come quella di Primo Levi o la colpa dei sopravvissuti che noi incontriamo molto spesso nelle persone in lutto una colpa che si esprime con parole se vogliamo più piccole più vicine all'ambito familiare che è mi dispiace mi dispiace passare una giornata di felicità perché lui non c'è più e non c'è qua a godersela perché lei non c'è più e perché lei non è più con noi quindi tutti questi sensi di colpa che non sono ancorati a una reale colpa ma che sono ancorati a un come ci sentiamo rispetto agli altri a ciò che dovrebbe essere a ciò che avremmo voluto che fosse sono ancora un altro ambito e poi il senso di colpa delle madri delle figlie che accusiscono questo è anche un altro grande tema mi domando al genere forse al maschile quanto si esprime e in che modi si esprime questa dimensione del senso di colpa per stare nel ruolo oppure se è un tema un po' più femminile questo potrebbe essere un argomento di riflessione di riflessione che consigliamo di riflessione ciò che vuole può andare e con il piatto non comprate l'aria ma